Allora, proseguiamo l'udienza con l'indagine sull'omicidio Crisafulli, capo 29A. Venga intanto avvicinato l'imputato Nicolosi Orazio. È rinunciante, presidente. Daremo lettura allora delle sue dichiarazioni. L'imputato Garozzo Giuseppe c'è? Sì, è presente. Allora venga avvicinato Garozzo Giuseppe. Intanto diamo lettura. 29. 29, vero? Sì, 29A. Nicolosi Orazio, Mazzeo, Matteo e Garozzo Giuseppe sono imputati del delitto di cui gli articoli 110 e 605 codice penale, poiché in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con violenza e minaccia, privavano Crisafulli Salvatore della libertà personale, agendo poi con le modalità descritte al capo 30, in Catania il 12 ottobre 1976. 30, del delitto di cui agli articoli 110, 575, 576 primo comma numero 1, 577 primo comma numeri 3 e 4, poiché in concorso tra loro e con altre persone allo Stato non identificate, cagionavano la morte di Crisafulli Salvatore, che dapprima veniva ferito con arma da taglio, poi strangolato e successivamente veniva posto su un'autovettura alla quale veniva appiccato il fuoco, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire l'impunità dal delitto di cui al capo precedente, di aver agito con premeditazione, di aver commesso il fatto col concorso delle circostanze di cui è l'articolo 61, avere agito con sevizi e crudeltà verso la persona per le modalità sopraindicate, in Catania il 12 ottobre 1976. 31, del delitto di cui agli articoli 110, 624, 625, numeri 2, 7, 61 numero 2, perché in concorso tra loro e con altre persone allo Stato non identificate, allo scopo di trarne profitto, si impossessavano dell'autovettura FIA 131, sottraendola a Finocchiaro Filippo che la deteneva, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, su cose esposte per necessità alla pubblica fede, e di aver commesso il fatto al fine di eseguire i delitti di cui è capi 29, 30, in Catania il 25 settembre 76, 32, del delitto di cui agli articoli 110, 411, 61, numero 2 del Codice Penale, poiché in concorso tra loro e con altre persone non identificate, commettevano atti di distruzione del cadavere di Crisafulli Salvatore, appiccando fuoco alla vettura su cui era stato posto il corpo del Crisafulli, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui è capo 29, e di procurarsi l'impunità dai delitti di cui ha i capi 30 e 31, nelle circostanze di cui sopra, 33, del delitto di cui agli articoli 110, 635, primo e secondo comma, numeri 1 e 3, 61, numero 2 del Codice Penale, perché in concorso tra loro e con altre persone non identificate distruggeva l'autovettura di cui ha il capo 31, appiccando il fuoco alla stessa, con l'aggravante di aver commesso il fatto usando minaccia a persone in transito in quel momento, cioè Saitta Nicola, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di procurarsi l'impunità dei delitti di cui ha i capi che precedono, fatto commesso in data e luogo di cui sopra. Lei ha facoltà di non rispondere alle domande della Corte, intende rispondere? Sì. Che cosa ci dice su questo fatto? Mi potesse inocente. Non ha partecipato a questa azione? Completamente. In nessun modo? Completamente. Lei ha informato dell'accusa formulata da Parisi nei suoi confronti? Sì, sì. Che cosa ci dice al riguardo? Conosceva Parisi a quell'epoca? Sì, lo conoscevo. Vi frequentavate? No, eravamo... io mi hanno arrestato il 77, no? Febbraio del 77. Sì. E dopo il febbraio mi hanno trasferito per un altro processo a Trieste. Il 10 maggio sono rientrato in Trieste e sono andato nella cella 45 del braccio sinistro del calcio di Catani e l'altro l'ho trovato a Parisi ed altre. Quindi nel 77? 77. E sono rimasto un anno in cella con Parisi e l'ho conosciuto soltanto quel periodo. Quindi nell'epoca di cui si parla, fine del 76, non vi conoscevate per nulla? Lei era in libertà in quell'epoca, sì? Sì, sì. Ottobre 76? Sì. Sei, 76. 76. E che cosa faceva? Come viveva? Che lavoro? Ero già... è un altro precedente che ero latitante. Era latitante? Sì. Però sempre mi dò da vivere lavorando con un abbigliamento con mio padre. Davo una mano a mio padre. Commercio di abbigliamento insieme al padre? Era latitante perché è inseguito da cosa? Ordine di carcerazione o di cattura? No, un ordine di cattura. Di cattura. Perché ha debito? Un reato. Prego? Un reato. Prego, ma quale? Tentato omicidio. Eh. Però sono uscito da sotto. Era ricercato... sì, sì. Dico, in quel momento lei era ricercato per tentato omicidio e non di meno esercitava liberamente il commercio? No, liberamente no. In qualche modo, lateramente, aiutavo mio padre. Cosa vuol dire aiutare? Andava in giro a fare i mercati? Andavo a comprare la merce, andavo a fare con mio padre, ci facevo compagnia. Di atto di questo? Collaboravo con mio padre, andavo a comprare della merce, gli facevo compagnia. Cioè, si muoveva, girava. Sì, sì, girava perché per me non mi andavo a presentare, però quando mi fermavano per me era, come si dice, una cosa che mi... non mi andavo a presentare io personalmente, ma speravo che un giorno altro mi arrestavano quando mi sbligavo questa cosa, che ero innocente. Di fatto poi ho potuto dimostrare la mia innocente su questo fatto. Non mi andava a decostituirmi, speravo non mi cercassero, non mi trovassero. E poi ho detto, appunto, speravo mi prendessero e dimostrare la mia innocenza. Io personalmente non mi sentavo a presentare, però se mi arrestavano per me... Non mi interessava se mi arrestavano perché contavo di dimostrare la mia innocenza. In effetti sono poi stato assolto. Esatto. In istruttorio o in dibattimento? In dibattimento. Ma, cioè, l'hanno catturata, poi il dibattimento... Sì, sì, per questo periodo sono stato in caccia con Parisi. Ah, per questo? Per questo reato, sì. Poi fui arrestato, l'ha detto, nel marzo del 77? No, fui arrestato nel febbraio del 77. Febbraio del 77. Però sono stato prodotto a Trieste e poi sono tornato di nuovo a caccia di cattura. Il 10 maggio. Ed è stato arrestato proprio per quel mandato di cattura e per tentato omicidio? Per tentato omicidio, sì. E poi è stato assolto? Sì. L'ho capito. Parisi ha raccontato che in quel periodo si stava costituendo un'organizzazione... Sì, ho letto. ...la famosa organizzazione dei Cursoti, eccetera. Lei ne sa nulla di questo? Completamente. Non ne ha mai fatto parte? Completamente. Sapeva dell'esistenza di questa... No, completamente. Non sapeva? Soprattutto l'esistenza di questi Cursoti e non Cursoti... Sono nel processo. Sono nel processo. Che poi dicono che questo Cursoti deriva da un quartiere del corso. Che io abitavo là vicino, in questo quartiere del corso. Ma in questa organizzazione non ho mai sentito parlare. Là ci sono altre gente che lavorano. Quindi questa organizzazione penso che dobbia essere una cosa più grande... per come ha dichiarato Parisi e d'altro. Ma io non lo so, là non la vedevo questa grande organizzazione che dicevo, vedevo gente che lavoravano. Ho capito. Di atto di questo, Parisi ha parlato di una banda dei Cursoti, i pressi del corso, e di questa banda non ha mai saputo niente. Ma se non altro un dato oggettivo c'è, una serie di morti di qua e di là c'è stata, no? Ma non lo so, dica Parisi, perché in questo quartiere proprio non è successo mai niente. Nessun omicidio è mai avvenuto nel quartiere. Degli altri imputati che Parisi indica in questo fatto, responsabili insieme a lui, cioè Nicolosi e altri, lei li conosce? Sempre sulla scella 45 il braccio sinistro. Solo come conoscenza di carcere? Sì, sì. Anche Nicolosi? Pure, e c'era pure il signor Parisi al tempo che non c'era Nicolosi. Ho capito. Anche Nicolosi l'ho solamente conosciuto in carcere. Altri imputati? Pure Mazzeo Matteo? Pure, c'era. Solo conoscenza di carcere? Sì, sì. Sembra la stessa scella, sempre. Stessa scella. Avete avuto dei processi insieme per caso? No, no. Non è imputato anche lui di tentato omicidio? Cioè, il tentato omicidio che ha debitato a lei? No, io solo, io solo a me l'avevano debitato. Nessuno? Indanno di chi era il tentato omicidio? Prego. Indanno di chi era il tentato omicidio? Tonsuso Antonino. Scusi? Tonsuso Antonino. Che poi era una lesione. Non era un tentato omicidio, ma era una lesione. Sono stato preghi stato per lesione. E poi sono uscito da sotto. Ho capito. Con che formula? Sempre l'insufficienza di prova. L'insufficienza di prova. Ho capito. Per il resto conferma le sue dichiarazioni in istruttoria rese sull'omicidio Frisafulli? Sì, sì. Ne diamo lettura brevemente. Quanto all'omicidio Frisafulli santo, ciò che ha dichiarato Parisi il 10 ottobre e il 16 novembre dell'84 e il 21 aprile 86, allorché ha precisato che la notizia dell'omicidio gli fu data da Giarratana, non per telefono ma in un incontro avvenuto successivamente, dichiaro che non so nulla di questo omicidio. Non conoscevo Crisafulli, soprannominato, mi dice il giudice istruttore, tu rischeggia. Conosco Mazzei Matteo, non conoscevo Angelo Pavone, né Maccarone Gianni, non conoscevo neppure Giarratana. Ripeto che sono innocente anche in ordine a questo omicidio e che non ne so nulla. Conferma queste dichiarazioni? Ritiene di voler rivolgere domande o contestazioni a Parisi? Sì, sì. Allora rimanga qui, venga avvicinato Parisi il salvatore. Intanto diamo lettura delle dichiarazioni di Nicolosi, che è assente per... È stato informato Nicolosi che... Certo, certo, è stata fatta la richiesta espressa di traduzione e lui ha rinunciato per questa udienza espressamente. Sapendo che doveva essere interrogato sul tema. Certo. Certo. Sì, lei capisce che andiamo incontro a quella polverizzazione di nuovo dell'indagine che cercavo di evitare proprio concentrando gli interrogatori sull'episodio. Non è che io possa obiettare, perché l'imputato è libero di rinunciare o meno. Posso però anche dire, vieni quando la corte ti chiama, ecco. Sta qui a Torino, no? Ah, vabbè, allora facciamo un'unica traduzione. Va bene. Dunque, intanto le diciamo Nicolosi che afforghi 8258. Abbiamo atto che si dà lettura delle dichiarazioni Nicolosi. Nicolosi Orazio, interrogatorio al giudice istruttore, l'11 marzo dell'86. Per quanto riguarda l'omicidio Crisaffulli, le accuse di Parisi, che ha detto che fui io ad accoltellarlo e a strangolarlo, e che il cadavere fu abbandonato su un'auto della zona industriale, non so nulla, non conosco Saia, né conosco la vittima. Conoscevo Parisi, che avevo conosciuto nel carcere di Catania. Non ho soprannomi, non è vero che il mio soprannome sia Orazio Ulisciu. Questo è il soprannome di mio padre, Nicolosi Pietro. Non ho altro da dire se non ripetere che sono innocente. Lei, Garozzo, è informato se Nicolosi fosse inteso Orazio Ulisciu? Orazio lo sentivo chiamare io. Solo Orazio? Sì, soltanto Orazio. È informato se il padre di Nicolosi avesse questo soprannome? No, completamente. E atto, io Nicolosi lo conoscevo solo come Orazio, non sono informato di soprannomi che avesse il padre di lui. Quanto a Parisi Salvatore, le chiedo se conferma le sue dichiarazioni su questo episodio. Sì. Le conferma. Ce lo vuole raccontare brevemente? Sì. Dica pure. Questo omicidio si collega sempre... Ecco, perché è nato, chi lo decise, chi lo fece. Si collega sempre nella guerra che c'era in corso a Catania. Dunque a me mi telefonò, io ero a casa quella sera, quando è stato commesso questo omicidio. Mi telefonò Giradana e Vincenzo, dicendomi non uscire questa sera. Io capì che c'era stato qualche cosa. Poi siccome tutti i giorni, o quasi tutti i giorni, ci riunivamo tutti quanti nella villa di Angelo Pavone, che era fuori Catania, nella zona di Vaccarizzo, una zona balneare, l'indomani o dopo due giorni, quando ci siamo incontrati, in quella villa lì mi dissero che avevano ammazzato Crisa Fulle. Ecco, chi glielo disse? Giradana, lo stesso Garozzo, Nicolosi. Lo stesso Garozzo? Sì. Anche Nicolosi? Sì. E che cosa le raccontarono? Che l'avevano, se l'avevano portato vivo. Ce l'avevano prelevato dove? Non lo so questo qua, non ricordo. Erano andati a prenderlo comunque? E l'hanno portato nella villa di Angelo Pavone. Sì. E lì l'hanno ammazzato. Le distraccolandolo e accoltellando, gli dederono delle pugnalate vicino al cuore. Poi l'hanno messo dentro il cofono di una macchina, non so di che tipo. Sì. E l'hanno portato nella zona industriale, gli hanno dato fuoco. Sì. Quindi strangolandolo, accoltellandolo e poi abbrucendo la macchina. Ricorda qualche altro particolare? No. Ricorda o sa perché sarebbe nato questo omicidio, cioè il movente. Perché? Chi era sto Crisafulli? Tutto rischieggio. Crisafulli era il figlioccio di Turi Ercolano, cugino di Nitto Santa Paola. E quindi? E quindi faceva parte dell'organizzazione Santa Paola. Santa Paola, con le quali si era in guerra. Vuole spiegare meglio, l'ha già avviato il discorso qualche minuto fa, ma per arricchirlo. Perché nasceva questa guerra in sostanza? D'accordo, lei ha detto c'era una banda di là che ci dava addosso. Perché vi dava addosso? Non so spiegarlo, io sono entrato nell'organizzazione nel 1976, dopo l'uccisione, no dopo l'uccisione, io sono entrato prima, però la guerra vera e propria con il nostro gruppo si è aperta dopo l'uccisione di Turi Coppola. Turi Coppola, che è imparentato con i Coppola qui presenti, che sono imputati in questo processo. Il fratello. Il fratello. Ecco, ma la rivalità, cioè perché Santa Paola... E ammazzavano della gente che magari ritenevano che gli dava fastidio. Ma fastidio, cioè la concorrenza in cosa? Volevano avere il monopolio di qualche cosa? In tutta la città, che adesso è tutta la città che Santa Paola c'è in mano. E questo monopolio che cosa significa? Estorsione, protezione, tutto questo. Poi, le volevo dire anche una cosa, signor Presidente. Il Garozzo dice, mi ha conosciuto in carcere. E in che cella eravamo? E in quella cella, chi è che c'era in quella cella? Eravamo tutti che facevamo parte della stessa organizzazione. Si faccia dire se c'era qualcuno che era del clan di Santa Paola. Ma neanche, non nella stessa cella, neanche nello stesso braccio. Quelli lì erano tutti dalla parte opposta. Quindi se lui non faceva parte, come dice, del clan dei Corsori, come mai si trovava in quella cella? Che in quella cella c'eravamo io, lui, Mazzeo, Scaraville, Salvatore, che era stato ferito. Nicolosi pure? Nicolosi, Pugli, Santionino, Mazzeo. Di atto di questo, consigliere. Garozzo, inteso, cosa risponde? Innanzitutto voglio rispondere all'ultima risposta che ha dato Parisi. Dicendo che non solo nella cella, ma neanche nei braccio, non c'era una persona di Santa Paola. Quindi eravamo per tenere tutti i custodi, vero? Ha detto così lui. Ma ogni braccio, signor Presidente, sono minimo 250 detenuti. Mi sa dire in Parisi che ci sono 650 detenuti qua, imputati nell'associazione? E una. La risposta? Va bene, me la do io stesso per risposta, in base a quello che dice Parisi. Il Parisi, il munitore, il Presidente, aveva detto che quando si incontrava una persona di Santa Paola, si doveva ammazzare, vero? Come mai questo Corsafullo, come dice lui, l'abbiamo preso via e portato in questa cosa? Come è stato possibile? Lo faccio spiegare di Parisi. Come? Vuole rispondere? Non è il primo che si ammazzano. Non è il primo che si ammazza in questo modo. Eh, ma c'era una differenza tra quelli che venivano presi, diciamo così, vivi e quelli che venivano ammazzati subito? Quelli che venivano presi vivi, si venivano presi vivi per sapere qualcosa, abitazioni o qualcosa di questo genere qui. Un attimo, cancelliere, recepisca quel che si è detto. Altre contestazioni da rivolgere a Parisi? Non mi sembra una risposta logica a quella che ha detto in Parisi. Non ho capito, mi sembra. Com'è questo si è fatto prendere vivo? Aveva una rete dei pescatori, come l'hanno preso questo? Non so. Non è la prima volta. Ma spiega come si doveva prendere questo qua, no? Non è la prima volta, ma come? Ci sono vestiti di carabinare, di polizia, non lo so, in qualche modo. Parisi ha detto che non c'era lui. Comunque, sentiamo, c'era una tecnica per superare le diffidenze di chi stava in guardia. Lo porta qualche amico fidato della vittima. Però fa il doppio gioco. Sì. Allora, di atto di questo. È vero quel che dice Garozzo. In casi del genere si ricorreva a un amico fidato della vittima che lo attirava. dove c'erano quei della banda. Non sai indicare il nome di questo che ha preso questa persona? Cioè, ci hanno detto tutte queste componenti che hanno fatto sta mazzettina, l'hanno topportellato, bruciato, strangolato. Ci hanno detto a Parisi se c'è stato quello che l'ha portato pure, penso. Lei ha informato in questo caso? No. No, non lo so. Come mai si incontravano così frequentemente ogni giorno, ogni due giorni, nella villa di Angelo Pavone? O comunque, come mai si incontravano così frequentemente in quel periodo? Questo da rivolgere a Parisi, vero? Dicca. Si partiva dalla villa di Pavone quando si andava a ammazzare. Cioè, era una base per... Era il ricoo, quello lì. E vi trovavate con molta frequenza lì? Sì. Ci trovavano con frequenza nella villa di Pavone perché questo era il covo e lì prendevamo le decisioni per andare ad ammazzare. C'erano anche le armi in quella villa? Sì, sì. Sì. E Pavone e Angelo poi ucciso nell'episodio? Sì. È quello, sì? Sì. Altre contestazioni? Il Parisi dice che faceva parte di questa organizzazione in quel periodo. Allora ci faceva parte, perché come dice Parisi, anche io in quella organizzazione. Mi sa indicare, cari Parisi, che realtà abbiamo commesso assieme a lui in quel periodo? Io con lui, se facevo parte di questa organizzazione. Lei ricorda qualche episodio che abbiate fatto insieme? Assieme mai. Perché eravamo tutti a gruppi. Lui faceva parte di un altro gruppo. Io facevo parte del gruppo Puglisi Antonino, Antonino De Luca, Orazio Nicolosi, Angelo Pavone e Enzo Geradana. Aspetta un momento che raccolga tutto. E Garozzo aveva un altro entourage. Chi è che girava insieme intorno a lui? Valastro, Salvatore Scravilli, Gianni Maccarone. Questo era un altro gruppo. Adesso altri nomi non ricordo. Comunque eravamo formati tutti a gruppe. E qualche volta qualcuno di un gruppo passava a un altro. Già, perché Maccarone ha fatto... Però insieme con Garozzo io non ho fatto quel periodo nessuno. Perché poi io fui arrestato nel 77. E ci siamo incontrati in carcere. Andava il Garozzo a quelle riunioni nella villa di Angelo Pavone? Sempre. Sempre? Sì. C'è l'era di atto di questo. Il Garozzo era sempre presente nelle riunioni della villa del Pavone. Quando le tenevamo. Signor Presidente, io vorrei dire una cosa. Nel momento dell'istruttore, il giudice Laudio mi aveva chiesto, in un confronto con Parisi, se io avevo... Se Parisi aveva dei motivi per accusarmi queste reali. Sì. Al momento io avevo detto che Parisi, in base ai rapporti che c'erano nella cella, non aveva nessun motivo. Però un imputato di questo processo mi ha detto che quel periodo... Mi ha fatto ricordare, non ha detto, mi ha fatto ricordare che quel periodo il Parisi aveva avuto una discussione con questo imputato. dove il Parisi... Aspetta, e a che periodo ci riferiamo? 77-78. Ah. E il Parisi si è rotto il ginoico. E per questo ho fatto il Parisi. Volevo controllare sia le scaraville, sarebbe questa c'erassone, sia me. Vuol dire che il Parisi è vero o meno questo? Cominciamo intanto dal relato di questo. Eh, non ho capito. Il G mi chiese se Parisi aveva motivi di risentimento verso di me. Al momento non ne ricordai. Poi lo scaravilli, è lui che l'ha fatto venire in mente. Sì, mi ha fatto ricordare questo particolare. Lo scaravilli mi fece ricordare che nel 77... Sì, nel 77-78. Quel periodo è successo questo fatto. È una cosa registrata a Cacene, non è che... Nel 77-78, quando eravamo insieme detenuti a Catania? Sì. A Catania? Sì. Parisi ebbe rotto un ginocchio? Sì, da parte di questo scaraville. Da parte dello scaraville. Si attribuì a lei la responsabilità? No, al scaraville. Siccome ero intimo di scaraville nel Cacere, e lui se la voleva prendere sia con scaraville che con me, mi voleva coltellare. Mi voleva chiedere a Parisi, è vero o meno? Ora chiederemo. E siccome ero molto amico di scaravilli, Parisi voleva coltellare sia lui che me. Ma diede corso, cercò qualche volta di fare un attentato. Non lo saputo da altre persone. Ma chiede a lui se è vero o meno quello che sta dicendo. Adesso interrogo a lei per mettere a fondo il tema. Quindi, attentati concreti non ne subì. No, attentati concreti no. Seppi da altri detenuti? No, attentati concreti no. Questo seppi da altri detenuti. Attentati concreti non ne subì. Parisi su questo punto? Non è assolutamente vero, niente. Ebbe la frattura del ginocchio. Ma ho sbattuto contro il muro mentre giocavamo a pallone. Quindi non c'entra né scaravilli né nessun altro? No, no. Non c'entra scaravilli. Eh? Scaravilli non c'entra? Parisi, è vero che ebbi lesioni al ginocchio perché sbattei contro il muro giocando a pallone. Non c'entra né scaravilli né garozza. E ha motivi di risentimento. No, no, assolutamente. Eravamo nella stessa cella. E come sbattuto il parisi? Prego. Il parisi come sbattuto il ginocchio. Così ci ha detto? Giocando a pallone. No, no, lui lo sa come sbattuto il ginocchio. Non è giocando a pallone? No, è giocando a pallone. Il motivo come ha sbattuto il ginocchio non è specifacato. Eh beh, però se vuole che io rivolgo una domanda concreta mi dica andò così. Io gli dico è vero? No, è stato così. Ci spiego come è stata la cosa. C'era battibecchi nella stanza tra Parisi e Scaraville. Che lui dice che erano compagni, che non esiste questo che gli dicevo. E erano compagni che si prendono nella cella. Quindi non è che uno può cambiare cella. Quindi anche se trova delle persone come Parisi uno ne deve sopportare nella cella. Quindi non andavo d'accordo con Scaraville. E Parisi cercavo di stuzzicarlo al passeggio. Però siccome io alla volta che mi arrestavano quindi non avevo quella malvagità del cacere come poteva avere qualcun altro mi sembravano delle piccole cose che si potevano discutere con una semplice tessaria. Il Parisi cercavo di stuzzicare lo Scaraville al passeggio. Lo Scaraville siccome è molto più copulento di Parisi la spinta nel muro e si rotte i ginocchi. Il Parisi ci voleva dare dei schiaffi però il fatto di dolore è caduto. Il Parisi non sta dicendo che è stato Scaraville sta dicendo che non è responsabile di Scaraville ma dice una bugia come tutte le altre cose che dice Parisi. Quindi lui si è andato all'ospedale a far si ingestare il ginocchio. Non potendo fare delle reazioni ha cambiato stanza il Parisi. È andato dalla 45 alla 47. E dopo ho saputo di questo comporto che Parisi e lo sa lui con chi voleva accotellare sia me che Scaraville. Adesso Parisi questa cosa non la vuole dire. Io sto riflettendo una cosa. Questo è avvenuto nel 77 e nel 77. Non è andato, esatto. Anzi è stato più nel 78 e nel 77. E' registrato a caccia il Presidente. Parisi ha formulato le sue accuse nell'84. Ebbene, io non l'ho visto più Parisi quindi potrebbe essere una cosa che non ci sia rimasta qua che non l'ho potuta fare quindi adesso con Garozzo e Scaraville penso che potrebbe essere che mi sto sbagliando ma questa è una cosa che devo dire al giudice struttore in un momento che non ricordate. E noi la registriamo. Parisi è vero quanto dice Garozzo? No. È vero che io ho sbattuto il ginocchio ma non me lo sono rotto, è tutto falso. Quando io sono stato ingessato la gamba è perché mi sono rotto il dito, non il ginocchio il dito del piede, sempre giocando a pallone però quella è un'altra volta. Ho capito. E Scaraville non c'entra? No, no, assolutamente. Né Scaraville né lui. Ecco, diamo atto che Garozzo aveva detto che da allora non vide più il Parisi. Il cancelliere appena riesce a reggere l'altro. La contestazione del Presidente come mai Parisi solo parecchi anni dopo lo accusò e dice da allora non lo vidi più. È vero che lei fu cambiato di cella nel periodo in cui ha detto Garozzo? Non ho cambiato solo io di cella. Abbiamo cambiato io, Pugli e Santonino. Per quale motivo? Ma per altri motivi. Ce li vuol dire? Come? Ce li vuol dire? Ma erano motivi così futili. Abbiamo composto un'altra cella. Cioè su richiesta vostra? Sì, sì, non c'era nessun contrasto. Abbiamo formato un'altra cella e poi dopo ancora ne abbiamo formato ancora un'altra perché arrestavano sempre gente della nostra organizzazione. È vero che cambiai di cella. Poi dalla 47, non so se era la 47, come dice lui, hanno arrestato a Sant'Omazzeo. Ho fatto un'altra cella. Mi sono messo con Sant'Omazzeo. Cambiai di cella. Con me, peraltro, venne anche Pugliesi e Antonino. Fu un normale avvicendamento, come ce ne furono altri. Altre contestazioni da rivoluzione. Il pari sta dicendo allora che quel periodo si è rotto soltanto il dito, giocando a pallone una volta soltanto. Quel periodo, lui. Che se frattura riportò... Il dito una volta soltanto. Non so, così ho inteso. È così? Cosa? No, ha detto che si è rotto prima un ginocchio e poi un'altra volta il dito. Ma che quando fu ingessato era per il dito. Quando fu ingessato? Sì, per il ginocchio non fu ingessato. Ah, capito. Ma sono stati due particolari diversi allora? Due episodi diversi sono stati. Dica pure Parigi, sono stati due episodi diversi. Sì, sì. Sempre giocando a pallone. Sempre giocando a pallone. Era sfortunato, forse. Va bene. Sul tema specifico? Contestazioni da rivolgere? Ne avrei tante, ma poi negli altri ribottimenti poi... Vabbè. Ce li dica. Ma già ho risposto, formavamo altre celle. Era una richiesta sua di comporre... Altre celle, sì. A domanda della difesa, il mutamento di cella fu dovuto a nostra richiesta di combinarci con altri detenuti. Aveva detto anche, se vogliamo dare atto, chiedo scusa, aveva anche detto, se vogliamo dare atto, che la necessità derivava dal fatto che arrestavano continuamente altri della loro organizzazione, che quindi, evidentemente, non bastavano. fu arrestato Santo Mazzeo e altri del gruppo e io chiesi di andare con loro. Altre domande? Quindi non vi fu nessun futile motivo? No, in effetti non ha detto futile motivo. Sì, ha detto futile motivo, il Presidente. Sì, sì, d'accordo. Di futile motivo. Ora non esistono più neanche questi futili motivi. A sua precisa... Sì, futili motivi, vabbè, la qualificazione è poi spiegata dal fatto specifico. Fu aggettivazione impropria. Comunque, prescindiamo dalla qualificazione, i motivi furono questi, il desiderio di stare in cella con altri. Non il desiderio di stare con altri, per fare altre celle, perché in quella cella che eravamo, eravamo, non mi ricordo, 12-13 persone, solo in una cella. Non è vero, signor Presidente. Non è vero. Capito. Allora, preciso, siccome continuavano ad essere portati i detenuti del gruppo, in cella non ci stavamo tutti e ne composero altre. Non è vero, signor Presidente. Dica. Quello che dice lui non è vero. Quale? Eravamo 7-8 massimo e siamo rimasti io, Scaraville, e un'altra persona, perché lui l'aveva con me e con Scaraville. Lui e quelli amici suoi ha cambiato cella, lui e quelli amici suoi, perché se si fa a dire i nomi, lui lo sa chi sono. Io e Scaraville soltanto siamo rimasti, quindi non è che eravamo affollati, siamo rimasti in minoranza. Ok, di atto. Va bene. Altre domande sul tema? No, no. Come mai c'era questa consuetudine di formare raggruppamenti omogenei, cioè nella cella ci andavano solo quelli di un certo gruppo? Sì, quelli che facevano parte dell'organizzazione. Io posso fare gli nomi che eravamo in quella cella, a 45. Lui dice erano in tre. Non so se il carcere viene registrato. Avvocato? Volevo fare una domanda, Presidente. In quella cella, in quel periodo, c'era anche il suo cugino che si chiama Nunzio Parisi? Nunzio Parisi? Sì, non vorrei spiegare se è possibile il motivo della domanda. Cioè la rilevanza è questa. Sta dicendo in sostanza che tutti coloro che erano in quella cella, in quel periodo, erano appartenenti ad una certa associazione. Siccome noi abbiamo un motivo di pensare che alcune persone siano state escluse, e quindi questo serve per verificare l'attenibilità, pensiamo che ci fosse anche in quel periodo, in quella cella, Nunzio Parisi, che credo che sia il cugino. Quindi per verificare questo, la domanda era, quel periodo, cella 45 e 46 c'era o non c'era Nunzio Parisi? Se il Presidente lo... Ammetto la domanda, Nunzio Parisi che parentela ha con lei? Il mio cugino. Cugino, è vero che era detenuto? Verissimo. Era accusato di cosa? Non so perché, questo era parecchi anni che era in carcere. Ah, era già in carcere da parecchi anni? O 10 o 15 anni, 12 anni, non ricordo bene. Ho capito. La domanda della difesa, Nunzio Parisi è mio cugino, in effetti era in carcere con me? Sì, sì. Era in carcere con me, ma era detenuto da almeno 10 anni. Come minimo. Se non di più. Signor Presidente. Ma vogliamo andare avanti a questo punto? Cioè chiedere se era con loro in cella e se sì perché? Sì, perché era mio cugino. Era da parecchio tempo io che non vedevo mio cugino. Cioè c'era stata una richiesta comune di stare insieme? Sì, sì. Non mi ricordo perché era venuto a Catania e gli dovevano fare il consiglio per l'Assemblea Libertà, non ricordo. L'abbiamo messo in cella con me. Ma solo perché era mio cugino. Venne messo in cella con me solo perché era mio cugino. Parleremo poi in seguito delle procedure attraverso cui questo era possibile, vero? Allora non è vero in assoluto che tutti i colori... Non è vero in assoluto, voglio dire, c'erano delle eccezioni. Questa è un'eccezione e quindi potrebbero essercene altre. O questa era l'unica eccezione in cui una persona rinchiusa in quel braccio, in quella cella, non faceva parte dell'Associazione? Non credo di potergli porre una domanda su centinaia di imputati. Cioè c'era... Solo sapere se era l'unica eccezione o potevano essercene altre eccezioni di gente rinchiuse che non faceva parte. No, non mi sento di porre un insidio alla memoria dal momento che nessuna persona può ricordare un caso del genere. Signor Presidente. Signor Presidente. Il Parisi ha detto che si è fatto un'altra stanza per allargare le stanze che non c'era posto, giusto? Il Parisi, quello che erano nella stanza con lui, facevano parte tutta la nostra argomentazione, escluso il nunzio Parisi che era suo cugino. Non ho capito, tutti quelli che erano lì facevano parte? Nella sua stanza, lui dice escluso il suo cugino... Quella dove è andato dopo? Parisi, esatto, che si è formato Parisi. Lui dice Parisi che escluso il suo cugino che era suo cugino, non lo vedeva da anni, che poi è tutta un'altra storia. Dice, facevano parte tutta questa organizzazione? Dica. No. Sì, sì, facevano tutti i parti. Sì, c'era Gaetano Mirabella pure con lui, un nemico suo come dice lui, come mai erano nella cella con lui. Nell'ospedale. Esattamente. Nell'ospedale. Vuole spiegare? Sì, sì. Dica. Ero solamente in quella cella Gaetano Mirabella perché lo dovevano ammazzare in carcere, lui lo sa benissimo. Lo dovevate ammazzare? Esattamente. E dopo pochi giorni gli è stato ammazzato il fratello da questo Mirabella fuori dal carcere, da Gianni Moccarone e Santo Mazzei. E lui lo sa benissimo. E come mai Mirabella aveva accettato di venire in... Perché si fidava di Jimmy Miano. Ho capito. E pochi giorni dopo gli è l'entito? Sì. Va bene. Il Presidente, Jimmy Miano era nella stanza con me, come è andato nella cella con lui? Se si fidava di Jimmy Miano. Jimmy Miano era nella stanza con me, nella cella con me. Come è andato nella cella con lui? Perché eravate in fende. No, no, no. E sono registrate queste cose. Erano in fende. E ha registrato la stanza quando persone c'erano. Perché si registrava. E si può constatare che al periodo si eravamo in fende o eravamo in meno. Si può anche constatare questo. Ecco, ma che cosa fa derivare dal fatto che Jimmy Miano sia andato con me? No, lui dice che Tano Mirabella era nella cella con lui perché si fidava di Jimmy Miano. Sì. Non vedi il senso. Che invece era con lei. E Jimmy Miano era con me, Tano Mirabella si fidava di Jimmy Miano. Andava da Jimmy Miano, nota lui che dice che era il suo nemico. Ho capito. Cosa risponde? Perché loro erano in tante e lì non c'era posto. Non è vero. Comunque, nella cella dove c'era lui e nella cella dove ero io, non facevo nessuna differenza. Perché facevamo tutte della stessa organizzazione. Quindi Tano Mirabella non aveva nessuna difficoltà ad andare o da loro o da noi. Cioè vuol dire che la sola presenza di Jimmy Miano era garanzia. Esattamente. Ho capito. Va bene. Chiuderei sul tema perché abbiamo scavato. Esatto. Si presenta l'ultima parola. Perché ormai lui l'ha detta la dichiarazione. Quindi ti fa se può anche constatare. Il Parisi, la prima volta che si è rotto il dito del piede, non si è rotto il giocato a pallone. Ma è stato il suo cugino Nunzio Parisi che ci ha congelato il dito con una bomboletta del gas e ci ha rotto apposta. Non so i motivi di Parisi perché si è rotto questo dito. E si è andato all'ospedale apposta in Parisi. Non non giocando a pallone. E Parisi lo sa. E Nunzio Parisi che il suo cugino lo sa pure. Viato che Garozzo afferma quando Parisi si fratturò il dito non fu giocando a pallone. Fu suo cugino Nunzio che prima glielo congelò con una bomboletta. Con una bomboletta del gas e poi ce l'ha rotto il dito. Una bomboletta del gas? Del gas, sì. E poi glielo fratturò. Sì. E per quanto? Non so i motivi, lo sa Parisi i motivi. È vero a questa circostanza? Sì, ma lui lo sa perché. Allora non è vero che si era rotto giocando a pallone? Sì, la prima volta sì. La prima volta l'ho rotto giocando a pallone. Ah, quindi due volte si rompe lì? L'ho rotto un casino di volte. Sempre quello. Sempre lo stesso dito. Perché avevo l'ingestatura. Toglievo l'ingestatura e rompevo sempre lo stesso dito. Per ottenere cosa? Per andare all'ospedale. Lui lo sa perché io andavo all'ospedale. Tu che sei venduto ce l'ha detto. Allora, approfondiamo il tema. È lui che sta collaborando. Cioè io non sto collaborando, quindi non lo so. È lui che sa i motivi. No, lei che ha introdotto il tema della frattura. Sì, io ho visto questa operazione che ha fatto che si è congiato il dito, non ci parisi e si è rotto il dito. Poi il rimanente, lo sa lui perché si è rotto il dito, che prima ha dichiarato che si è rotto a giocando a pallone tutte e due volte che è scritto. Lo può anche ripetere che è che scrive. Quindi adesso lui questa cosa, che è collaboratore, non l'ha detto prima, ma dici le cose che ci confiano in modo solo. Allora ci dica perché si fratturava il dito per andare all'ospedale? Sì, per evadere. Per evadere? Sì. Lei è informata? No. No. Ma non l'ho mai letto però nelle dichiarazioni di Parisi questa. Ci saranno molte cose che non sono state dette. Colano venne prelevato, portato in un luogo che non so indicare e lì strangolato e pugnalato. A dargli le pugnalate fu Orazio Nicolosi, detto Orazio Ulishu. Il cadavere venne poi portato su una macchina nella zona industriale. Non so dire con precisione, ma mi pare di ricordare che abbiano dato fuoco alla macchina. Non so chi, oltre al Nicolosi, abbia partecipato materialmente all'omicidio. È noto che il Turi Ercolano è parente del Santa Paola e quindi che era un loro uomo. Secondo interrogatorio. 15 novembre. In ordine all'omicidio di Salvatore Crisafulli, avvenuto come mi si dice il 12 ottobre 76, posso dire che il Crisafulli apparteneva al clan Calderone ed era figlioccio di Turi Ercolano. Il Crisafulli fu prelevato, non so dire dove, e portato nella villa di Angelo Pavone, nella zona del Torero, a Vaccarizzo, fuori Catania. Non so dire che abbia materialmente sequestrato il Crisafulli. L'omicidio è stato commesso nella villa di Pavone, dove venne strangolato, e mi pare che gli abbiano dato anche delle pugnalate. Parteciparono all'omicidio sicuramente Angelo Pavone, Gianni Maccarone, Matteo Mazzei, Giarratana Vincenzo e Garozzo Giuseppe. Di altri non so se ci fossero o meno. Sono sicuro di questi perché furono gli stessi a dirmelo, e in particolare il Giarratana mi telefonò dopo l'omicidio per dirmi che lo avevano commesso, andando anche nei particolari. Il Giarratana mi telefonò a casa di mio fratello la sera stessa dell'omicidio. Il corpo del Crisafulli venne messo nel bagagliaio di una macchina che venne poi portata nella zona industriale. Non so dire se l'auto si è stata poi incendiata. Terzo interrogatorio del giorno successivo. 16 novembre. 16 novembre. Pubblico Ministero. Mi riferisco all'omicidio di Salvatore Crisafulli, detto Turischeggia, fatto per il quale ho parlato da lei ieri mattina. Ieri ho dimenticato, e me ne sono ricordato oggi, di menzionare tra gli esecutori del fatto Orazio Nicolosi, il quale fu colui che materialmente accoltellò il Crisafulli. Quanto agli altri partecipanti al fatto, riconfermo quanto ho già detto. Sempre prima che me ne dimentichi, voglio riferire di due personaggi... Per chiarezza le chiedo, quando lei il 16 novembre, cioè il giorno successivo in cui fece questa integrazione, disse, ieri mi sono ricordato, come le venne in mente? Qualcuno le disse, ma guarda che... No, 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 assolutamente nessuno. Allora, quando il 16 novembre ho menzionato anche Orazio Nicolosi, nessuno mi sollecitò la memoria. Cos'è stata? Lei stessa è tornato in carcere, che ha ripensato quel che ha detto e ha ricordato che... Adesso non ricordo, signor Presidente. Comunque fu lei a introdurre il discorso. Sì, sì. Fui io a riaprire il discorso perché mi ero ricordato nell'intervallo. Quarto interrogatorio. Confermo che ad uccidere il Crisaffulli furono le persone che ho menzionato, e cioè Nicolosi Orazio, Giarratana Vincenzo, Maccarone, Mazzei Matteo, Garozzo Giuseppe e Pavone. Può anche darsi che altri abbiano partecipato al sequestro e all'uccisione di Crisaffulli, ma non lo so dire. Prendo atto di quanto da me dichiarato nei due verbali, in date successive. Tali mie dichiarazioni non sono in contrasto tra di loro, semplicemente nel primo verbale mi limitai a un discorso di sintesi sul fatto, così come mi era richiesto dai magistrati che volevano acquisire una prima serie di notizie. E poi successivamente ho approfondito il discorso. Non è esatto il secondo verbale laddove sembra che Giarratana mi diede per telefono i particolari sull'omicidio appena compiuto. Egli per telefono mi avvisò solo di non uscire quella sera. Io da questa frase capì che era successo qualcosa, era il periodo della guerra aperta con il gruppo Calderone Santa Paola. Poi il giorno dopo, nei giorni immediatamente successivi, ricordo di essere andato nella villa di Pavone, e lì il Giarratana e gli altri mi diedero i particolari sull'eliminazione di Crisaffulli, e cioè mi dissero le cose che ho riferito. Io nulla sapevo prima di un progetto di omicidio contro Crisaffulli. Voglio dire che in quel periodo di guerra aperta, chi si fosse incontrato con gli appartenenti al gruppo Santa Paola sarebbe stato da noi ucciso. Era questa la decisione di oggi.